Buonasera e bentrovati ai telespettatori di Seila TV, a voi il sommario con le notizie più importanti della giornata. Feltri contro i ciclisti, una frase shock scatena l'ira della categoria, a Seila TV affida la risposta alle critiche. Controlli dei carabinieri a Nembro e Villa di Serio, due arresti per spaccio di droga. Gandellino, veleno in una carcassa di cervo per uccidere i lupi, due persone denunciate. Il nuovo palazzetto dello sport slitta ancora, sarà pronto per la fine del 2026. Atalanta, sabato sera contro il Bologna, dirige Rapuano. Intanto ecco il Cesena in Coppa Italia. Ecco, iniziamo il nostro telegiornale con Vittorio Feltri, con questa notizia, insomma questa frase che si è lasciata scappare contro i ciclisti, una specie di bufera nazionale. Vediamo di centrare il fatto con questo breve servizio. Quello che mi dà fastidio sono le piste ciclabili. I ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti. Le parole le ha pronunciate a Milano Vittorio Feltri, direttore del Giornale e consigliere regionale di Fratelli d'Italia, in attesa di conferme circa il fatto che effettivamente abbia proprio detto così, il popolo dei ciclisti, ma anche della politica, si è rivoltato giudicando a dir poco scioccanti le parole del giornalista bergamasco. Una levata di scudi generale e trasversale. Versante politico, il Partito Democratico, attraverso diversi rappresentanti locali milanesi e regionali, ma anche nazionali, ha subito chiesto le dimissioni di Feltri, ritenendo che chi matura idee simili non può sedere a tavoli istituzionali. Quindi il popolo delle due ruote che si dice allibito all'unanimità. Non solo ciclisti amatoriali o cittadini che utilizzano ogni giorno la bicicletta per muoversi in città, ma anche rappresentanti del mondo ciclistico professionistico, come Davide Cassani, ex corridore, ex CT della Nazionale, storico commentatore Rai, che in un post pubblicato sui propri profili Facebook ha scritto, penso ai familiari di Michele Scarponi, Davide Rebelline, quelle migliaia di persone che hanno perso un proprio caro sulle strade. E mi viene tanta tristezza solo pensare fino a che punto può arrivare la cattiveria umana. Le parole di Feltri sono arrivate proprio nel giorno in cui lo stesso Michele Scarponi, ciclista professionista morto mentre era ancora in attività dopo essere stato investito da un'auto, avrebbe compiuto 45 anni. Con il fratello Marco Cadetto queste parole l'hanno ucciso una seconda volta. A livello bergamasco, Claudia Ratti, presidente dell'associazione Aribi e da sempre attenta alla promozione della bicicletta e delle pratiche per aumentare la sicurezza dei ciclisti, ha ricordato i 200 ciclisti uccisi sulle strade ogni anno, definendo le parole di Feltri parole che incitano direttamente alla violenza. Va bene, allora noi abbiamo Vittorio Feltri in diretta, lo ringraziamo per la disponibilità. Le chiedo, una provocazione magari non compresa, le sue parole, cosa volevano dire, l'ambito a volte è importante dove si dicono queste frasi. Mi dica lei Vittorio. Sì, noi stavamo facendo un convegno su Milano e a un certo punto mi hanno fatto una domanda e io ho risposto. Ma evidentemente, come sempre i giornalisti travisano e quindi hanno riportato male il mio pensiero che era stato espresso in modo chiaro. Io ce l'ho con le piste ciclabili, non con i ciclisti. E ho soggiuto che ogni volta che qualcuno viene travolto, io in un certo senso spero e quindi sarei contento che il Comune intervenisse finalmente per togliere queste piste ciclabili che hanno ridotto Corso Buenos Aires e via Fatebene Fratelli, come dei sentieri di montagna dove il traffico si ingolfa e succedono cose terrificanti. Questo è il problema. Ma non i ciclisti. Poi come ne frega, anche io ho fatto il ciclista, per cui sarebbe stupido che ce l'avessi con loro. Però è chiaro che anche loro spesso a Milano fanno quello che vogliono. Vanno dritti su queste piste ciclabili, se uno sta svoltando a destra non guardano e ci sono dei incidenti. Quindi penso che queste piste ciclabili vadano annullate. Ma nonostante i morti e i ferimenti, è vero che il sindaco di Milano, che evidentemente ha la testa dura, non capisce e continua a lasciare queste piste ciclabili che naturalmente rendono difficile la vita dei milanesi. Io questo ho detto, lo ribadisco, non me ne vergogno. Se poi mi attribuiscono il desiderio di sterminare i ciclisti, sono dei deficienti come spesso sono i giornalisti che riferiscono, ma riferiscono male. E poi, siccome io ormai ho sostituito Sgarbi come bersaglio di critiche, io mi rassegno, anzi, me ne frego. Lei è bergamasco, come lo siamo tutti noi, sa benissimo, anzi ha ricordato pochi giorni fa, attraverso proprio una pagina del suo giornale, ha ricordato per cosa si ricorda Bergamo, Papa Giovanni e Gimondi. Diamo una mano a questi ciclisti, tendiamo una mano a questi ciclisti. Io, scusa, ero amicissimo di Gimondi, andavo spesso a casa sua a cena la domenica sera e quando è morto ho provato un grave dolore perché ho perso un amico e non soltanto un grande campione. Questo ci tengo a sottolinearlo, dopodiché pensino quello che vogliono, che io sia cinico, cattivo, che voglio ammazzare la gente. Sono dei deficienti quelli che gli attribuiscono certi sentimenti che non ho. Le faccio l'ultima domanda. Indro Montanelli l'ha conosciuto molto bene, ha definito gli italiani un popolo di permalosi. Che dice? Sì, non solo l'ho conosciuto bene, ma sono subentrato al giornale, alla direzione del giornale quando lui lo lasciò. Quindi diciamo con Montanelli avevamo un rapporto, direi il fraterno, e sono d'accordo con lui. Siamo tutti permalosi, non solo gli italiani. E la permalosità è anche una dote in molti casi. Però quando raggiunge i livelli che io sto vivendo a causa di una mia frase che è stata malinterpretata, mi ha messo a qualcosa. Grazie, grazie a Vittorio Feltri, direttore del giornale. Grazie anche a Dottor Macri che ha favorito questo collegamento. Noi torniamo in studio, continuiamo con il nostro notiziario e partiamo con la cronaca. Questa mattina all'alba in città le Forze dell'Ori hanno eseguito una maxi operazione di controllo nell'area della stazione ferroviaria e delle autolinee. Carabinieri di Bergamo, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno messo in campo una massiccia quantità di agenti per monitorare la situazione dopo le quotidiane segnalazioni dei cittadini su episodi di spaccio e aggressioni. I controlli si sono concentrati nelle prime ore della mattinata, ovvero quelli in cui gli autobus carichi di studenti arrivavano in stazione per l'inizio delle lezioni. 19 le persone controllate, 3 persone sono state trovate in possesso di modi che quantità di acish, mentre sono stati notificati due avvisi orali del questore, un foglio di via e un divieto di accesso alle aree urbane. Parliamo invece ora dello spaccio addirittura, pensate, nei boschi, nei boschi della Bergamasca e anche qui sono intervenuti i carabinieri. 20 i militari dell'arma dei carabinieri impegnati a prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Compagnia di Bergamo, con l'ausilio del nucleo forestale di Trescore Balneario e del nucleo cinofili di Orio Alserio, hanno setacciato i boschetti nelle località fontanì e rinnovata nei comuni di Villa di Serio e Nembro. Diversi i bivacchi dove stanziano i soggetti dediti allo spaccio. Proprio in uno di questi, situato all'interno di una cavità naturale, i carabinieri hanno arrestato due soggetti extracomunitari, gravati da numerosi precedenti specifici. In loro possesso sono stati rivenuti un panetto da 100 grammi di cocaina, uno da 50 grammi di eroina, 2700 euro in contanti, diversi telefoni cellulari, un macete da 48 centimetri ed una pistola con matricola a brasa e 5 cartucce. I due attualmente si trovano reclusi nella casa circondariale di Bergamo. Analoga attività era stata svolta nei mesi estivi nei boschetti di Grassobio, San Paolo d'Argon e Montello, dove erano stati rinvenuti due panetti di hashish per un peso complessivo di 90 grammi, un macete con lama di 37 centimetri e un'accetta. In quella circostanza furono controllati 15 soggetti che si aggiravano nei pressi e all'interno dei boschi con l'intento di acquistare sostanza stupefacente. Ancora cronaca, due persone sono state denunciate dalla polizia provinciale di Bergamo, sono state pizzicate da fototrappole mentre riempivano di veleno una carcassa di cervo allo scopo di avvelenare esemplari di lupo che si fossero cibati dei resti. I fatti risalgono a questa primavera e si sono verificati nei boschi di Gandellino. Gli autori del gesto sono stati denunciati per reati di delitto, tentato di uccisione di animali e uso di esche e bocconi. Sono due allevatori dell'Alta Val Seriana, di cui un imprenditore zootecnico è un allevatore amatoriale di ovi caprini. Ancora protagonisti i carabinieri, questa volta di Zogno e di Brescia, che hanno arrestato due uomini, protagonisti di truffe telefoniche ai danni di due donne anziane di Castione della Presolana e San Pellegrino. I malviventi hanno contattato le anziane, spacciandosi per carabinieri e avvocati, raccontando che i figli avevano avuto un incidente stradale e che c'era bisogno di soldi. Poi si sono presentati a casa delle vittime e si sono fatti consegnare contanti e gioielli per un totale di 8.000 euro. Un terzo uomo invece è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Zogno perché è ritenuto responsabile del medesimo reato perpetrato con le stesse modalità. Ora ci spostiamo in un processo, anzi in una richiesta di arresti domiciliari, parliamo di Alessandro Patelli, condannato in Cassazione a 21 anni. Alessandro Patelli soffre di una grave depressione. Il carcere è incompatibile con la sua condizione psicofisica che potrebbe anche divenire irreversibile con eventuali gesti estremi. È l'avvocato Ivano Chiesa che con questa motivazione ha chiesto al Tribunale di Sorveglianza la scarcerazione del 22enne dalla casa circondariale di Bergamo. Nell'agosto 2021 ferì mortalmente con un coltello Marwen Tagliari. Un litigio fuori dal portone di casa di Via Novelli, zona stazione. Poi l'accollutazione e l'accoltellamento davanti alla moglie e alle figlie di 2 e 12 anni. Nessuno spazio per l'attenuante della legittima difesa. Per il Tribunale fino alla Cassazione, in via definitiva, fu omicidio volontario aggravato dai futili motivi. 21 gli anni di carcere da scontare. Nelle motivazioni, un paragrafo particolarmente duro. L'omicida non ha saputo trattenere la propria pulsione violenta, cui non è risultata affatto estranea una qualche deplorevole intolleranza di natura razzistica. Sempre l'avvocato di Patelli sottolinea che debba essere considerata l'esigenza di cura del detenuto, oltre che la tutela della comunità. Ma il ragazzo, ha dichiarato Chiesa, non è un assassino inserito in una banda criminale o un mafioso. L'omicidio è avvenuto in circostanze del tutto particolari, che non si verificheranno più. Lui è un bravo ragazzo. Le perizie mediche della difesa consiglierebbero i domiciliari. Quelle nominate dal Tribunale confermano che il ragazzo può essere seguito anche da medici del carcere e rimanere in cella. A giorni, la risposta dei giudici. Ancora Bergamo, con l'assessore comunale alle politiche giovanili, Marzia Marchesi, che ha risposto all'interrogazione presentata dalla consigliera di minoranza, Ida Tentorio, sulla gestione di Piazzale Alpini. Il gestore dell'area Concerti era stato accusato del mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura della recinzione attorno alla piazza, che erano stati concordati con il Comune di Bergamo. L'assessore Marchesi ha ripelogato quanto è successo nei mesi estivi, sottolineando che il Comune ha formalmente diffidato il gestore proprio sulla gestione degli orari, disponendo anche dei controlli della Polizia Locale, affinché la convenzione venisse rispettata. L'assessore Marchesi ora assicura il rispetto degli orari che prevedono l'apertura dei cancelli alle 7 di mattina e la chiusura alle 22. E si profilano tempi lunghi per il nuovo Palasport che sorgerà nell'area del Palakreberg da tempo demolito. Si parla almeno del secondo semestre 2026. Nel frattempo gli spettacoli saranno messi in scena nell'arena di Chorus Life, ormai in direttura d'arrivo. Dopo le verifiche tecniche e in preparazione, nel progetto esecutivo, a seguire il bando pubblico di gara europeo che dovrebbe essere pubblicato entro il 31 dicembre. Previsione di inizio lavori estate 2025, tempo di realizzazione stimato tra i 12 e i 15 mesi. L'investimento è di circa 14 milioni di euro, 6 messi dal Palazzo Frizzoni, dal Comune di Bergamo e i restanti 8 dal privato. Da sottolineare che nello studio di fattibilità il costo dichiarato era di 9,3 milioni di euro. Parliamo di uno sciopero, ora ancora i lavoratori dell'Ital Trans che scendono in piazza. Questa mattina alle ore 6 i lavoratori di Ital Trans a calcio in provincia di Bergamo sono scesi davanti al magazzino. E' partito lo sciopero. Questo sciopero sta continuando tutto il giorno. I lavoratori ancora una volta chiedono diritti ai padroni, chiedono che vengano pagate le malattie, chiedono che vengano pagati i contributi, chiedono dei salari normali, non dei salari da fame. Questi si stanno spaccando la schiena e Ital Trans e tutte le cooperative che sono al loro interno non gliene frega niente delle condizioni dei lavoratori. I lavoratori sono scesi questa mattina alle 6 e questo sciopero continuerà tutto il giorno. Hanno cercato più volte le forze dell'ordine di sgomberarci, non ci sono riusciti, non ci sono riusciti perché i lavoratori non si fanno spaventare. Questa volta i lavoratori hanno deciso di rimanere qua e continuare questa lotta tutto il giorno. Noi denunciamo quello che sta succedendo. Questo non è un appalto genuino come tanti altri appalti delle logistiche in tutta Italia. Noi domani sposteremo questo presidio, lo sposteremo a Milano davanti alla regione Lombardia. Porteremo anche i lavoratori di Ital Trans per gridare forte a regione Lombardia quello che sta succedendo. Questi non sono appalti genuini. Qui dentro sfruttano i lavoratori. Sciopero! 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 Parliamo ora del nuovo simulatore a Orio al Serio, il passo, il grande passo tecnologico nel nostro aeroporto. Un nuovo simulatore per la guida dei mezzi su gomma operativi nell'area dell'aeroporto di Orio al Serio sarà a disposizione dello Scalo Bergamasco. Si tratta di una prima per l'Italia, mentre a livello europeo solo Bruxelles ne ha già una in dotazione. Una tecnologia che ha un obiettivo ben preciso, continuare a lavorare per incrementare sempre di più la sicurezza in ambito aeroportuale. Abbiamo un'ottima opportunità con il nostro simulatore di crescere tantissimo in termini di formazione e di prevenzione di eventi di safety e quindi di arricchire molto la nostra esperienza, di arricchire molto la nostra competenza, di preparazione delle persone e di continuo mantenimento dei loro livelli di capacità, le loro competenze operative e la qualità del loro lavoro. Negli uffici direzionali di SACBO è andato in scena anche un workshop sul tema che ha coinvolto anche i rappresentanti dell'autorità aeronautica nazionale e di quella europea, competenti per la regolamentazione dei servizi di assistenza aeroportuale a terra. Ci fermiamo ora per qualche consiglio per gli acquisti, ci ritroveremo con le notizie dell'Atalanta ma anche del volley. Ben ritrovati con le notizie della seconda parte del nostro notiziario, sarà Antonio Rapuano di Rimini a dirigere Bologna-Atalanta, la gara della sesta giornata di Serie A in programma sabato 28 settembre alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara Punto di Bologna, al VAR Davide Massa e Aleandro Di Paolo. Bilancio leggermente a sfavore per l'Atalanta, quando ha incrociato il fischietto Romagnolo, quattro i precedenti, una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Sarà invece il Cesena ad affrontare l'Atalanta negli ottavi di finale della Coppa Italia. La partita si disputerà al Gevis Stadium di Bergamo a dicembre. Gli ottavi di finale saranno distribuiti su due settimane, quella del 4 e quella del 18 dicembre. Date e orari esatti verranno comunicati successivamente dalla Lega Serie A. Cesena ha eliminato il Pisa proprio ieri sera ai sedicesimi, vincendo 1-0 in trasferta. Prendiamo invece di Atalanta, Under 23, che ha sconfitto sonoramente per 5-1 la Pergolettese nel sesto turno del campionato di Serie C Girone A. Ospiti avanti con Parker al 48esimo, poi la grande rimonta del lungo doppio Vlaovic, Bergonzi e Vavassori, gli autori del gol, tra questi Del Lungo e Vlaovic, sono spesso ormai convocati in prima squadra. L'Atalanta, Under 23, sale a quota 10 punti in classifica, piazzandosi al quinto posto. Parliamo del volley, del volley Bergamo, che ha svelato questa mattina le nuove maglie per la stagione 2024-2025. Una linea accattivante firmata Macron, che nella versione casa dà ancora più risalto ai colori storici della squadra. Avrà un gioco grafico rosso-blu per la prima maglia, una versione bianca per la seconda, con un richiamo a Bergamo nella stampa sublimatica del tessuto, e in colori grintosi, gialli e neri, per la versione del Libero. E ora guardiamo il cielo di Bergamo e con Trebi Meteo ci informiamo sulle prossime ore. Ben ritrovati i nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo ci attiene una giornata di venerdì a tratti ancora instabili in Lombardia, con fenomeni più presenti in mattinata, specie sui monti, ma tratti anche in pianura. Poi sulle zone pianeggianti dal pomeriggio avremo maggiori schiarite, temperature massime in aumento, con punte di 26-27 gradi. In dettaglio sulla provincia di Bergamo ci attende un venerdì a tratti ancora instabili, come dicevo, specie in mattinata, massime fino ai 24-26 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di sabato, il tempo tenderà a migliorare anche se potrà tornare qualche isolato rovescio, specie sui settori montuosi, temperature massime intorno ai 20 gradi. E infine per quanto riguarda la tendenza attesa per le prossime giornate, tempo in miglioramento con sole protagonista, massime però non al di sopra dei 20 gradi. Ma per tutti i dettagli c'è il sito e l'app di Trebi Meteo. Nessun'altra nuova notizia per questo notiziario. Redazione Chioccio, la seda.tv.tv per le vostre segnalazioni. Vi auguro una buonissima serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.